Carta di credito online Carta di credito perché tutti vi cloneranno i dati. Questo non è assolutamente vero. Bisogna seguire un minimo di attenzione. Quando effettuate un pagamento con la carta di credito online è necessario che voi vediate nella pagina che avete aperto dove vi si chiede di inserire i dati della vostra carta di credito nell'indirizzo. In alto vi sia questa scritta HTTPS. Se vi è questa scritta HTTPS all'inizio dell'indirizzo di quella pagina, LS vuol dire sicurezza, vuol dire che siete in un'area assolutamente sicura dove con estrema sicurezza potete mettere tutti i dati della carta di credito. Molto spesso siete addirittura dentro una banca e magari forse siete dentro la stessa banca della quale siete clienti e online fate tanti bonifici e pagamenti di varia umanità. Ecco, pagare con la carta di credito online si può. Basta essere un attimo attenti.